era una notte sicuramente buia perché era notte non so se fosse tempestoso oppure no però so che rampage era live e quindi ci si aspettava un rampage con il botto un botto che di fatto non è successo e ora ne parliamo in questa review io sono stefano la voce di aw italian podcast sono qua per dirvi quelle poche cose che si possono vincere da questo sì da quest'ora di wrestling che è sembrata proprio un'ora di wrestling cioè è sembrata più un'ora di facciamo vedere dei match quattro in totale e diamo in pasto un pre show per un battle of the belts di cui parleremo invece domani allora che cosa è successo sostanzialmente all'interno della dinamica di rampage rampage è partito col blackpool combat club che ha visto incrociare alle armi con rush e i due del i due private party sostanzialmente il match è stato molto buono divertente scorrevole molto scorrevole con un rush davvero in grado di fare molto bene che potrebbe dovrebbe fare qualcosina di più vedremo se riuscirà però però sicuramente buono credo che lo stiano anche usando bene per presentarlo bene è uno di quei personaggi che lo butti dentro in qualsiasi contesto e ti tira fuori un buon match questo è decisamente interessante e soprattutto ha un senso per la elite no cercare di rifare forse quella strada che avrebbero potuto fare con andrade che invece hanno fatto ovviamente non ci sono menzioni né ad andrade né altro c'è semplicemente osè c'è semplicemente rush ci sono i private party basta basta semplicemente basta è quello che c'è il match comunque scorrevole funziona funziona che è già una cosa positiva e quindi bene così bene così se state vedendo movimenti strani sto cercando di tenere un file aperto con per non perdere nulla diciamo così di quello che devo dire allora josh woods invece tony nice hanno battuto i varsity blondes varsity blondes sostanzialmente si erano già demoliti distrutti dopo che giulia art sostanzialmente è andata via hanno provato ma timidamente a recuperarla cosa tra l'altro insensata perché di base lei voleva andare quindi basta peraltro vi consiglio di ascoltare il suo unrestricted è stata ospite di obra edwards e abrantes sostanzialmente ha parlato di un sacco di cose comprese anche gli inizi in all elite gli inizi in generale nel wrestling se avete paura dei serpenti come sottoscritto ascoltatelo perché se lo guardate in versione video lei mostrerà il suo serpente e niente già all'epoca erano finiti i varsity blondes senza dubbio ma in realtà c'era stato di più c'era stato un brian pilman che aveva parlato di varsity blondes al passato in un'intervista fatta dieci giorni fa circa perché fare varsity blondes di nuovo perché comunque la parola varsity deve piacere tantissimo a e quindi quando josh woods e tony knees hanno battuto i varsity blondes bene arrivato mark sterling che sostanzialmente ha detto ci chiameremo noi varsity ora loro due saranno i varsity athlete che non è male non è male e questi cambi non me ne frega tantissimo però non è male che abbiano formato questa coppia e che possono fare effettivamente qualcosa ovviamente mark sterling lo sapete io sono un mark sono un mark di mark e sostanzialmente ha fatto una battuta bellissima iniziando col fatto che era stato colpito i testicoli dal durante il national scissarin day insomma parte introduce la cosa del cambio nome dicendo o praticamente le palle in fiamme dal giorno del national scissarin day che potrebbe essere vista anche come sono molto eccitato fin da quel momento insomma molto bello molto bello un gioco di parole eh sicuramente carino ovviamente non si fanno eh attendere gli acclaim che arrivano e vengono a insomma farla loro far la voce grossa anche loro quindi dai abbiamo visto di tutto pure gli acclaimed eh con il solito eh max caster che insomma ci delizia con il suo rapping e poi potrete trovare le traduzioni all'interno dello you listen sul nostro sito internet vi ricordo noi abbiamo un sito internet www.italianpodcast.it a cui potete far riferimento c'è stato anche un messi coppia femminile dove ehm thai jas hanno battuto sky blue e madison rain match importante per sky blue per cominciare a farsi vedere per cominciare a tirar fuori un pochino ehm insomma la propria personalità e quant'altro match molto bello in realtà molto scorrevole molto divertente mi sono ehm mi sono trovato positivamente a guardare questo match e finale buono con ehm con Anna Jay che va a sottomettere proprio sky blue però buono e sono riuscite a far bene messi coppie trios femminili stanno venendo molto bene e io lo dico da un po' quella è la strada ok semplicemente in un match in una card qualsiasi tu hai visto quattro ragazze fa fa tanto perché quando tu ne vedi soltanto due in un match da anche dieci minuti beh la scorrevolezza ci può anche stare eh l'importanza la possiamo anche riconoscere ma sono sempre due persone e sembrano veramente una goccia di caffè dentro un mare di latte troppo poco troppo troppo poco quindi avere più ragazze rappresentate non è una cattiva idea il main event è stato qualcosa di allucinante con il death triangle che è andato contro il dark order in venti minuti di match molto intensi finiti poi con un'altra scorrettezza di pacchi il quale sembra lavorare sempre più da solo dal punto di vista delle scorrettezze rispetto agli altri due ora capiremo se il futuro sarà un death triangle spuntato oppure se sarà un death triangle che virerà comunque tutto verso una parte più negativa una parte più ill lo scopriremo e sarà divertente il match in quanto tale non è stato bello scoppiettante come altri trios match abbiamo visto fare in all elite però sicuramente è stato positivo e le parti in cui hanno accelerato sono state veramente buone ten si è visto che si stava preparando per un match era molto molto on fire molto bravo è riuscito a fare diverse cose carine credo che anche per lui ci siano buone possibilità nel prossimo futuro di far qualcosa prossimo futuro e fare qualcosa significa probabilmente in qualche modo perdere la maschera e andare oltre il dark order che sempre di più sembra essere ad appannaggio di silver reynolds e evil 1 e loro tre probabilmente rimarranno l'unico nucleo del dark order a fare delle cose un po comedi ogni tanto un pochino più forzate e ogni tanto passare per il titolo trios questa è la mia previsione al momento spero che possa cambiare in qualche modo io vorrei che il dark order finisse completamente tanto non c'è più motivo che esista e vedere silver reynolds da soli per i fatti loro e evil 1 magari a fare dell'altro o cercare un altro tag team partner perché no potrebbe essere forse la scelta più interessante come finisce quindi ve l'ho detto con un altro colpo del martello che insomma del timekeeper che ha usato ancora pack questa volta con reynolds insomma quello che vedremo è sicuramente qualcosa di interessante interessante però è che a dargli questo diciamo questo martello è stato rush rush che probabilmente sta portando avanti non tanto un aiuto a pack in quanto tale ma sta provando a diciamo rompere il death triangle per poter accedere alla faida che verosimilmente lui andrade dovranno avere con il uccia bros questa è la mia idea fatemi sapere la vostra con un commento mettete like se questo contenuto vi è piaciuto portate tutto quello che vi sembra il caso di portare ovviamente su questo non su battle of the bells di cui parleremo domani i commenti che farete qui su battle of the bells io li ignorerò completamente e cercate insomma di dare un pochino anche i vostri spunti di riflessione andiamo a capire un po meglio cosa ne pensiamo cosa sta succedendo in quel della all elite rampage che è filato via tranquillo però non mi ha onestamente lasciato nulla di che se non la speranza con i varsity athletes di vedere qualcosa ma lo scopriremo io intanto vi ringrazio di cuore per aver seguito vi do appuntamento come sempre i prossimi video di aw italian podcast la media cerca di un video al giorno poi ovviamente per gli abbonati qualcosina di più ma per saperne di più potete cliccare sul tasto abbonati e vedere quali sono le situazioni che vi aiutano a diciamo avere i contenuti extra intanto vi ringrazio di cuore vi saluto noi ci vediamo e ci risentiamo alla prossima grazie a tutti